via apio ascolta a me mi servono 4 squadre per marcio adesso possiamo usare, è solo un air che vuol dire non c'è il combattimento ok? no, un sasani ok lasciamo la oh vedi che perché anche non la vuoi? io saperebbe che veni prima via, fatti un po, prima tu hai chiesto che volevo fare un pochettino di ah, e io sto bene quando non ce l'ho ah beh ma io non ce l'ho tutto tempo con lui beh, ora non c'è tutto parliamo, è poi da settembre perché no, perché io se le cose non prese devo fare bene qui queste Sì, ma io spero che a settembre trovi un lavoro. Spero che ora trovi un lavoro. Io spero che lo trovi quando indagare il viso, così l'ho aperta. Mì, te lo mi fosse bello. Ok, ritorniamo. Allora, allora, questa è quella che dovresti fare a tu. Ok? Mi metti qui? Sì, perché quindi la storia vi faccio il tuo luogo, ok? Allora, scontendo il tempo. Qua ci va in tempo i tagli. Eeeh! La coordinazione è un anno, come è tempo? Sì, perché non ci stanno lì, perché ho il tuo luogo. Non è, non è proprio. No, non è così. Vi mi metti qui, vi ho visto cos'è. Eh, non così, perché si va a massaggio. Papà, dove c'è l'ho qui? Ok? Dai, dai. Allora, continui. Ti ho detto bene, cominciare in più. Apre e te l'altro. Allora, viene avanti con la casa. Abbene lo paro qui. Ok? Vieni, se ci date questa parte, sentite dalla testa, va qui. Deve venire tu, allora uno, vieni, due, nove, vai, un, vai, uno, appena tu gli vieni, 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 vieni. Invece. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni! Pum, pum, pum. Quanto è la ricorsa? Prima di spendere? Allora, vieni! Buvi, puvi, dai! 委. Capirina! 1! financing 499 ok e natalia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.